Siamo qui con Marco Orsi, presidente dell'Associazione Senza Zaino, per parlare del prossimo convegno seminario sulla leadership educativa, molto importante per il contrasto alla povertà educativa. I giorni 1, 2 e 3 luglio ci sarà questo seminario sulla leadership educativa e la comunità educante, promosso dall'Associazione Senza Zaino nell'ambito del progetto L'ora di lezione non basta. Quali sono gli obiettivi che vi ponete? Gli obiettivi che abbiamo, che ci proponiamo, sono innanzitutto capire bene quali sono i limiti dell'organizzazione scolastica, le problematiche, le difficoltà, cercare di vedere quali sono gli approcci che ci possono aiutare e sono approcci improntati all'essenzialità, alla leggerezza, sia nell'aspetto organizzativo che nell'aspetto didattico, individuare e lavorare su poche pratiche che ci possono aiutare nel miglioramento. Le indico brevemente. La prima è l'onboarding, cioè avere delle procedure di accoglienza del personale nuovo, i cosiddetti novizi, i docenti che magari si trasferiscono. Poi un'altra pratica è il one page plan, cioè cercare di mettere un messaggio sintetico all'interno del sistema scolastico, della visione, della mission, degli aspetti fondamentali. Il terzo aspetto sono i workshop per lo scambio delle pratiche didattiche e poi il miglioramento delle riunioni con il sistema ISI. Ecco, questi sono un po' gli obiettivi, gli approcci innovativi e le pratiche che intendiamo promuovere tra gli istituti che aderiscono all'ora di lezione. Non basta, ma è tutto, è offerto a tutta la rete che è composta da circa 260 istituti scolastici nel nostro paese.